Quarta puntata delle avventure di Freddy Krueger, lo spauracchio più famoso degli anni Ottanta. Essendo Freddy un prodotto dei sogni, e della cattiva coscienza, può andare avanti all'infinito, risorgere tranquillamente a ogni capitolo, basta che qualcuno se lo sogni. Qui popola di incubi pochi sopravvissuti alle sue stragi. Ne risparmia temporaneamente solo una perché attraverso lei può arrivare ad altri disgraziati.